Il libro del giorno di Farenette comincia con la storia di Jojo, è un pescatore da cinque generazioni, ha una moglie che ama, non hanno figli, hanno perduto quelli che potevano avere e torna come ogni giornata in questa misteriosa città che si chiama DF, potrebbe essere un po' come l'Aurano di Camus in un certo senso, uno dei paesi che viene svegliato dai topi della peste. In questo caso non ci sono i topi della peste, c'è un cadavere che viene trovato ed è solo il primo. Questo è Carnaio, esce per Fandango, l'ha scritto Giulio Cavalli, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi. Ed è il terzo libro scelto da Evelina Sant'Angelo. Buon pomeriggio Evelina. Buon pomeriggio a voi. Perché ha scelto Carnaio? Per due ragioni. Uno, la prima ragione è la stima nei confronti di Giulio Cavalli, che è un uomo di teatro, regista, scrittore, drammaturgo, è un uomo anche di impegno politico. Da anni porta avanti le sue battaglie contro le mafie, contro ogni sottocultura violenta, ogni forma di abuso dello Stato di diritto. Si ha pagato il pago a un prezzo molto alto in termini di libertà personale. Insomma, il primo motivo ha a che vedere con questa stima che ho nei suoi confronti. Il secondo ha a che vedere proprio con il libro, con Carnaio, con lo sguardo in particolare che assume il modo di inquinare a questa storia. Perché a mio avviso raccontando in questo mare avaro di pesci ma prodico di cadaveri spiaggiati, riesce a, che si vanno accumulando sulle cose, riesce ad assumere, non mi si fraintendo, lo sguardo ironico, non comico, ironico. Cioè a copovolgere le cose, la prospettiva. Cioè riesce a cogliere risvolti insospettati, anche da in cui, certamente, perché da una parte c'è la non curanza di chi dovrebbe intervenire e non lo fa e dall'altra c'è chi finisce per trasformare queste circostanze drammatiche, questa non curanza, in una paradossale cineco occasione di profitto. Cioè il modo in cui evolve la vicenda evoca, a mio avviso, il nostro modo inquietante di muoverci sull'orlo del barato di civiltà in cui ci stiamo muovendo. E questa è la ragione. Grazie. Grazie Avelina Sant'Angelo che fa un po' da prologo in questa settimana ai libri del giorno e per questo la ritroveremo domani. Mille grazie ancora. Allora Giulio Cavalli, questa è l'introduzione che racconta anche, anticipa almeno una parte della trama. È vero, in questo paese che potrebbe essere qualunque luogo in nostro mondo, è un paese dove cominciano ad essere avvistati via terra, via mare, soprattutto, morti. E quei morti cresceranno giorno dopo giorno fino a diventare un'onda, più onde che finiranno per il sommergere il paese. Punto di partenza. Una sera, era molto tardi, mi capita di discutere con un pescatore di Lampedusa che mi racconta dei cadaveri che vengono ripescati abitualmente a Lampedusa e insieme a quelle che sono le normali caratteristiche di una discussione, che sa di morte, di isperazione, di dibattito politico, eccetera, mi dice, pensa, stanno talmente in acqua, dice, che hanno la pelle lessa, li troviamo lessati. E il carnaio nasce lì, nasce su quell'aggettivo lì, perché nel momento in cui questi corpi, questi cadaveri, riusciamo a farli essere niente, cioè niente che possa somigliare al dovere di dargli un nome, una storia, una provenienza, possono diventare qualsiasi altra cosa. Addirittura possono essere descritti da una sfumatura culinaria semplicemente per trasmettere una sensazione. E allora ho voluto immaginare, dico che nonostante sembri un instant book, carnaio nasce molto tempo fa, quindi anche con una realtà politica, se pensiamo, molto diversa. E il fatto che una distopia assomigli con il passare del tempo alla realtà è una pessima notizia. E allora mi è piaciuto pensare a un romanzo che raccontasse ciò che potrebbe avvenire se tutto ciò che ci diciamo sotto voce, dandoci di gomito nei bar, eccetera, nei nostri sogni peggiori, nei nostri veleni peggiori, accadesse davvero. E quindi immaginare una città in cui veramente c'è un'invasione, ma è un'invasione fisica, cioè in cui veramente questi occludono spazi vitali. E quindi diciamo che il punto di partenza è stato questo. Però sono molto contento che Evelina, ma non avevo dubbi, con la sua arguzia nell'osservare, non mi interessava fare un romanzo che fosse una condanna, ma che quasi umanizzasse anche la ferocia. È vero, è vero. La cosa per esempio che colpisce è che alcuni dei personaggi, alcuni rimangono innocenti, non so perché è difficile poi distribuire patentini di innocenza, però proprio il pescatore con la sua famiglia, inizialmente quando lo conosciamo non è un personaggio che il lettore colloca dalla parte della ferocia. Alcuni altri sì, naturalmente, la signorina ricca o un sindaco o un sacerdote che insomma ha uno strano atteggiamento nei confronti di questa pestilenza, perché a un certo punto la parola pestilenza lo citavo Camus, perché l'immaginazione di Camus nella peste si esercitò proprio nel cercare di capire che cosa accadeva e come cambiavano gli esseri umani quando un morbo li richiudeva dentro una città. In questo caso c'è sì anche questa clausura, perché alla fine dopo queste ondate terribili di cadaveri rimarranno prigionieri della città. Ecco, però non c'è una condanna, c'è come se lei registrasse con uno sguardo straniato, qualcuno ha citato giustamente Sara Mago a proposito di Carnaio, del suo romanzo, è una realtà che magari non ha contribuito a creare, ma di cui non si è accorto, mi sembra. Sì, perché io penso che nel momento, cioè quando si abbattono alcuni muri dell'etica e quindi si fa oggi qualcosa che non avremmo mai pensato ieri di poterci permettere di fare, da una parte c'è chi quello nuovo spazio cerca di occuparlo per accumulare potere, per accumulare denaro eccetera, ma quell'altro spazio la gente possiamo definire molto banalmente comune, in realtà è come se diventasse un condono ad occuparsi ancora di più solo delle proprie cose minime più vicine. E quindi gli abitanti di Carnaio, i buoni, diciamo, di DF, non sono quelli che decidono di lucrare sui cadaveri che seppelliscono la città, però sono quelli che dopo anni pensano, allora io ho il diritto di essere egoista e di salvarmi, e di salvare solo quelli più prossimi a me, no? E penso che questo federalismo della responsabilità a grandi passi in realtà ci stia avvenendo anche nel nostro paese. Quello che lei ci dice con Carnaio è ancora un'altra cosa, perché noi appunto assistiamo, la seguiamo nel dipanarsi di questa storia, un cadavere, due, tre, quattro, poi diventano decine e decine, e poi appunto arrivano le ondate, quando noi diciamo ondate, diciamo ondate vere, cioè nel senso che la città viene sepolta da questi corpi, che è la prima definizione che dà Giovanni sul primo corpo è non è del nostro mondo, quindi è questi corpi alieni, fra virgolette, che vengono da un altrove. Ecco, però la cosa che colpisce, in un certo senso ci riporta in tutt'altra chiave al discorso che facevano le due sorelle, Andrea e Tatiana Bucci, oggi ci si abitua, cioè ci si abitua anche all'orrore, quando loro raccontavano bambine i loro nove mesi Auschwitz, dicono il nostro ricordo è di una quasi normalità, era lo sguardo di due bambine evidentemente. Qui è passato il primo sconcerto, passati gli appelli a Dio, al potere politico, a chi ha la stampa, alla giustizia, ebbene ci si abitua. Sì, sai che ultimamente va molto di moda la resilienza? Sì. Ecco, io che la resilienza sia per forza portatrice di cose buone, non ne sono assolutamente convinto. La resilienza umana molto spesso è quella che ci ha costretto a rendere edibile, potabili, terrori, orrori che non lo sono, semplicemente per non avere nausea di quello che ci stava intorno. Forse ecco, la resilienza negativa di Carnaio è proprio questa, il mi ritrovo dentro questa cosa, mi dicono che devo delegare questa emergenza a qualcun altro, e quindi ho il diritto di non occuparmene, e allora a questo punto curo... A me interessava la sommersione della città proprio perché è fisicamente curo il mio cortile, quando arrivano le ondate e gli abitanti di Carnaio si occupano di ripulire la fontana, di sturare i water che sono rimasti occlusi dai cadaveri, eccetera, è proprio il mio occupo di uno spazio sociale e politico che è sempre più stretto, che è sempre più mio, che è sempre quello che mi sta intorno. Ed è un pensiero che da anni continuo ad andare in giro a ripetere. Io da Lombardo, seppur trapiantato poi su Roma, sono angosciatissimo del fatto che la coscienza politica di persone che io ritengo anche vicine a me dal punto di vista della sensibilità, al di là delle posizioni, si dicono molto contenti durante le cere, sai come va da te? No, guarda, molto bene, noi abitiamo in un quartiere tranquillo. Oppure c'è qualcuno che ti dice no, no, noi guarda, molto bene, nel senso che il nostro condominio è fatto tutto di brave persone. E noto una chiusura, un'aspirazione ad avere una socialità pulita e funzionante sempre più ristretta. Quindi per cui ci basta avere un buon condominio per sentirci abitanti nel mondo. E Carnaio vuole anche raccontare questo. Senta, Giulio Cavalli, c'è un antico, ovvio, arcaico, tabù nei confronti di un corpo morto, per cui c'è il rispetto, c'è la pietà, c'è l'amore, c'è il dolore, c'è anche l'orrore, c'è un orrore fisico. E qui c'è un punto, questo è l'altro salto interessante, in cui passa anche l'orrore. Cioè, passati i primi momenti, passati appunto dopo la prima onda, cioè, passato questo, l'orrore viene messo da parte, perché si deve andare avanti. Questa è anche l'altra, l'altra, non so se definirla a lezione, l'altra osservazione, diciamo così, che lei fa in questo romanzo. che è ciò che accade e che non riusciamo a raccontare di questi tempi. Perché io ho avuto il privilegio e purtroppo non ho avuto la forza di raccontarlo, se non provare a metterlo sotto traccia del mio romanzo, ma non nella mia veste da giornalista, di narratore, e io ho ascoltato i pescatori costretti a ributtare i cadaveri in mare per non farsi sequestrare per 15 giorni la barca, che è l'unico sostentamento della loro famiglia. E se io dovessi fare una fotografia di ciò che siamo diventati e di cosa è il Mediterraneo, oggi sarebbe quello. Sarebbero i pescatori che ti dicono io li ributto in mare e in cambio gli prometto, prometto a quei cadaveri che farò di tutto per salvare anche l'ultimo semivivo che mi capita di incrociare. Senta, c'è qualche cosa ancora in più dell'abituarsi, perché nella seconda parte, che è quella che si chiama proprio I vivi, di Carnaio, gli abitanti si riciclano, cambiano lavoro. Abbiamo conosciuto Joe Giovanni, pescatore, e in questo momento lui lavora su quella che viene chiamata la barriera, che ci riporta ad Eki di Game of Thrones in questo caso, però la barriera in questo caso è tutta altra faccenda. È vero, serve sempre a respingere, a tenere fuori. Ma a questo punto noi andiamo a scoprire che vengono anche riutilizzati alla fine questi corpi, cioè diventano parte di un ciclo economico, addirittura di un'attrazione turistica in un certo senso. Ed è questa la parte, forse ecco, l'ironia, che non è comicità, l'ironia di cui parlava Evelina Sant'Angelo, per esempio, è proprio qui. Certo, è un'ironia terribile, è un'ironia che ci dice noi saremmo anche capaci di farne dei manicaretti di questi cadaveri che sono arrivati a ricoprire una città. Perché nel momento in cui tu riesci a far passare, a far diventare luogo comune e pensiero dominante, il fatto che queste non siano persone e si comincia facendo credere che siano meno persone rispetto a noi, ma poi alla fine il sentiero porta in quel posto lì, allora se non sono più persone sono qualsiasi altra cosa. Io non vedo grosse differenze da questo punto di vista. La mia sensazione è sempre quella che ci sia un confine etico, c'è un cancellino, fuori da quel cancellino poi in realtà è tutto spazio libero in cui si può pascolare. E poi perché, e questo è un pensiero molto occidentale, se vogliamo anche molto capitalistico, non so se si possa dire ancora capitalistico in questi tempi, però per cui ciò che non è umano o comunque ciò che possiamo far uscire dalla cerchia dei cosiddetti diritti umani di cui l'Occidente si è sempre fatto forza e reso eroico e allora può diventare guadagno, è lavoro, lavoro nel senso però più turpa del termine, E quindi quello del guadagno, non quello del lavoro fatto con le mani e che serve a far sopravvivere. E poi perché se tu ci pensi, la narrazione dei migranti, se tu guardi sui social, eccetera, noi dovremmo essere veramente schiacciati dai migranti. Io mi accorgo quando mi capita di parlare con i sovranisti, ogni tanto mi dedico così, magari non fumo una sigaretta e parlo con un sovranista, poi bevo un bicchiere di latte come mio padre quando finiva il turno da operaio, e gli racconti che il numero di migranti di cui stiamo parlando ci sta dentro uno stadio di Cerebia, ad esempio, e è lì che vedi quando tu dai un senso tattile alla cosa, che non sanno più cosa rispondere. Allora, in carnaio invece ho provato a immaginare, facciamo veramente che arrivino dappertutto, il primo problema sarebbe di spazio e infatti l'idea che loro debbano liofilizzarli o comunque seccarli, trovare un modo di stoccarli è perché se veramente accadesse ciò che alcuni terroristi culturali continuano a mettere in campo allora noi non ci staremmo, adesso siamo il paese che non sa se ci pensi dove mettere il camion, siamo il paese che non ha spazio per i trasporti su gomma che ha le tangenziali occupate e quella sarebbe una tangenziale di carne umana invece che dovremmo trovare il modo di sciogliere e secondo me il passaggio da lì a questo punto visto che dobbiamo disfarcene facciamo in modo che non sia per niente ma monetizziamolo a me sembra abbastanza naturale. Ecco c'è un altro aspetto quando viene presa questa decisione quando si crea la barriera quando si crea questo sistema chiamiamola così e da fuori DF certo che arrivano le condanne evidentemente però quando sentono dire la storia vi condannerà c'è una sorta di indifferenza anzi viene proprio detto uno dei personaggi è una frase stupida che la storia abbia il tempo di condannare con tutto il suo da fare di inventarsi ogni ora un'ora nuova ecco è come se l'idea stessa di essere giudicati dalla storia dagli uomini da Dio perché c'è anche evidentemente un intervento del Vaticano in questo caso che viene accolto con irrisione cioè l'idea del giudizio effettivamente non viene neanche presa in considerazione dagli abitanti di DF è così bisogna fare così sì io penso che le persone disperate anche se sono disperate per percezioni che in realtà non hanno un reale riscontro sulla realtà subiscono e vivono una disperazione che invece è reale e quindi l'errore più grave che possiamo fare è prendere in giro minimizzare o addirittura irridere la loro disperazione piuttosto invece che occuparci del passo dopo passo mattone dopo mattone decostruire disarticolare la propaganda che gli viene data e quindi ho voluto immaginare che in fondo a un cittadino di DF che ha avuto la fortuna di essersi salvato e improvvisamente di ritrovare un enorme beneficio economico da ciò che gli accadeva la preoccupazione vera è quella di come godersi una maledizione che sono riusciti a trasformare in benedetta e non hanno i disperati in realtà non hanno mai un grande senso del futuro si può rimanere innocenti restando a DF o bisogna per forza fuggire per ritrovare l'innocenza questa è una domanda che ci siamo fatti spesso anche poi pensando alla fine e quindi che non riveliamo però qualcosa avviene diciamo così non lo so io sai un po' anche per quello che mi è successo ti posso raccontare questo che sembra che non c'entri ma invece c'entra io quando sono finito sotto scorta ho fatto anni andare in giro a dire sono sotto scorta per colpa vostra dicevo nelle scuole perché voi siete indifferenti io sono sotto scorta e invece poi con gli anni maturando mi sono pentito di come mi è capitato di parlare in quegli anni lì e ho capito che la gente ha diritto di avere paura e che non è dovere della gente sconfiggere le proprie paure è dovere di qualcos'altro di qualcun altro di una classe dirigente reale che non è solo politica che è culturale che è sociale quindi eccetera e quindi io li assolvo gli abitanti di DF non assolvo la catena di comando ma gli abitanti di DF li assolvo posso augurare a me i miei figli di non finire stritolati e senza libertà di azione in un gorgo del genere anche perché in quel gorgo il giusto e l'ingiusto come si direbbe poi finiscono per rimanere stritolati lo stesso certo e anche perché comunque alla fine se ci pensi le vere vittime come anche in questo caso poi non riescono a lasciare di sé le tracce le memorie cioè quello che ho cercato di raccontare definendole tutte uguali quindi della stessa altezza dello stesso peso ricordiamo che Giulio Cavalli finì sotto scorta perché osò irridere la mafia non era quello che colpì di più e che fece più male era che si era permesso di ridere di loro qui si sorride in alcuni punti e però diciamo che lo specchio forse è molto più visibile dei libri precedenti sì io sono molto contento di questo romanzo ti dico anche la verità perché la prima volta che riesco a scrivere un libro in cui io non ci sono e quindi faccio solo il mio mestiere artigianale di scrittore dicevo parlando anche con Fandango dicevo voglio scrivere un libro in cui nessuno mi chieda cosa c'è di autobiografico oppure in cui nessuno si aspetti di leggere un nome o una coda d'inchiesta che non ha letto da qualche altra parte e da questo punto di vista per questo è il romanzo probabilmente a cui sono più affezionato e il romanzo è Carnaio per l'appunto che è uscito presso Fandango grazie Giulio Cavalli per essere stato con noi grazie a voi dunque Farnet come immaginate va a chiudersi va a chiudersi anzitutto come sempre con i saluti da parte della redazione Josue Caracciura Carlo D'Amici Slea Gemmato Clementina Palladini Daniela Pirasto Laura Zanacchi Benedetta Nibali in regia Susanna Tartaro che cura il programma Gaetano Chiarella alla console potete continuare a usare la nostra mail fare con l'acca al centro chiocciolarai.it per mandarci messaggi potete riascoltare praticamente l'integrale della nostra trasmissione su raiplayradio.it potete ascoltare subito dopo di noi Luca Damiani con 6 gradi e sapete già che potete riascoltarci di nuovo domani quando torneremo alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini a tutti a tutti